La lezione di oggi sarà una lezione dedicata a Marc Chagall, un artista russo e non francese, come molte persone pensano, sentendo un nome che in realtà non era il suo. Moisei Segal, questo è il vero nome di Marc Chagall, era nato infatti a Vitebsk nel 1887, nella zona che oggi è Bielorussia. Nasce in un modo quasi miracoloso, dalla sua autobiografia apprendiamo che era nato morto. Era nato dopo un parto difficile, durante un incendio. Questo fatto lo leggerà come un fatto quasi miracoloso e lui stesso costruirà la sua biografia quasi in forma di fiaba. È disattento, svagato, malinconico, sviene facilmente, non riesce a integrarsi molto bene nella famiglia dove il padre fa il venditore di aringhe. Ma la mamma capisce la dimensione poetica di questo poeta con le ali d'artista, come è stato definito, e lo manda a un certo punto a studiare dall'unico pittore che si trova a Vitebsk. Un pittore, anche lui, di origine ebraica, che comincerà a dare a Marc i primi erudimenti del disegno. Marc, come dice di se stesso, aveva un viso adatto a un clown o a un poeta. Si rappresenta in questo famoso autoritratto con i pennelli di fronte alla tela e ne evidenzia la comunanza colorando la camicia e la tela allo stesso modo, proprio ad indicare un'intima connessione tra se stesso e l'arte alla quale veniva chiamato. Chagall non fu mai un ebreo praticante, non fu neanche ortodosso, non era religioso nel senso comunque rituale del termine, ma aveva una profonda spiritualità, una mistica del quotidiano, questa visione poetica di ogni momento anche il più banale dell'esistenza. E nei suoi quadri questa presenza piena e gioiosa anche della divinità la vediamo nelle danze, nel volo, nel non avere comunque un limite. I suoi personaggi possono fare cose inaudite, vivere a testa, a gambe all'aria, avere la testa in posizioni assolutamente non canoniche, essere in parti fatti di parti umane e di parti invece legate al mondo animale. E lui stesso scriverà più volte, io sono dalla parte degli animali, sento in questo mondo animale comunque una grandissima fratellanza. Cioè io cerco anche di dire delle frasi un po'. L'Ebreo Rosso del 1915 è un quadro molto importante nella produzione di Chagalla. No, non riesco, questo non mi viene male, per cui devo un attimo pensare come. Il mondo chagalliano è un mondo di per sé asimmetrico, un mondo che sembra uscire dalle regole del quotidiano, per entrare in un mondo misterioso, fiabesco abbiamo detto. Lo sfondo è rappresentato dalle case dello Stettel di Vitebsk, queste casette di legno così tipiche della cifra chagalliana. E ancora dietro vediamo una ripresa della scrittura ebraica dove il pittore cela il suo vero nome. Firmerà due volte questo quadro, una volta con il nome Chagall scritto in caratteri latini e un'altra celando all'interno della scrittura il nome in ebraico, Moisei Segal. Nel 1910 si trasferisce a Parigi. Scrive che a Vitebsk si sentiva in una gabbia, si sentiva come se si stesse per ricoprire di muschio. Eppure si sente a Parigi un provinciale. Lui stesso scrive che se non fosse stato per un senso di vergogna sarebbe tornato immediatamente a Vitebsk. A Parigi va a abitare a La Ruche, un atelier grandissimo, anzi una serie di atelier, di artisti e conosce Apollinaire, Sendrara, Modigliani. Il suo rapporto con i surrealisti è fondamentale e sarà proprio Apollinaire a scrivere che Chagall ha introdotto la metafora nella pittura moderna. La Passeggiata è un quadro del 1917, uno dei quadri più famosi di Marc Chagall. È un quadro riassuntivo di tutti i temi e anche le passioni di Chagall stesso. È un quadro che riguarda la sua felicità familiare, la vita con la adorata moglie Bella che di lì a pochi anni lo lascerà, morirà infatti negli anni 40. Ma in quegli anni la pienezza della vita familiare fa produrre a Chagall una serie di quadri dedicati alla moglie e poi alla figlia. È un quadro dove sullo sfondo riconosciamo di nuovo la sua adorata e odiata Vitebsk con una modulazione cubista degli spazi che riprendono l'esperienza parigina. I colori sono quelli tipici di Chagall, i verdi, i rosa, i grigi che modulano il cielo. Ma ancora importante è il tema del volo, uno dei temi fondamentali per il pittore e la presenza di una serie di segni che ci fanno capire tutta la tradizione Chagalliana, lo challe russo e il bicchiere, tipico segno del matrimonio nella cultura ebraica. Posso bere un po' d'acqua? Chagalliano è uno dei grandi solitari del Novecento. Benché la sua pittura sia permeata da influenze occidentali e da retaggi della pittura russa sia ottocentesca che precedente, rimane comunque un pittore a sé, con uno stile inconfondibile, anche per la sua tendenza a riproporre la stessa grammatica visiva, lo stesso segno, gli stessi personaggi. In questa riproposizione diventa simbolico. Grazie a tutti.